Alla votazione degli streamer Zona rossa, grazie per il raid di 176 utenti, malattino Adesso facciamo la votazione degli streamer, papere Vediamo un po', vediamo un po' Però, ci ripeto a specificare Faccio anche io la tier list Però, ci ripeto a specificare Questa sarà una cosa del mio gusto personale Quindi nessuno, guarda, lo metto anche come titolo, guarda Ho scritto Twitch Guarda Twitch tier list, guarda che meraviglia No, aspetta, però Sì, a posto Allora S S, cosa S? Allora, mettiamo Come mettiamo i voti più alti? Allora, come mettiamo i voti più alti? S Me lo sposo Ci sta, me lo sposo ci sta Come è, come il, questo è il massimo me lo sposo Poi Vediamo un po', partiamo dal basso Dal basso è, vabbè, dal basso è non lo conosco Aspetta, sposto la cam, si hai ragione Aspetta che se lo sposto Allora, dal basso partiamo con non lo conosco Altrimenti non ha senso D Mettiamo Cosa mettiamo come D Di che cos'è? No, fa schifo, no, fa schifo No, qualcosa di un pochino Un pochino meno, scusami, fa schifo Rimpicciolisci un po', ma si vede raga Cazzo si vede benissimo Mettiamo Non mi piace Non mi piace Ci mettiamo Mettiamo L'ho guardato ogni L'ho guardato Oddio, l'ho guardato ogni tanto Non ci sta Mettiamo Non siamo cattivi Non siamo cattivi, dai Mettiamo Carino Carino, dai Mettiamo carino Una cosa così Bici mettiamo Bello Qui mettiamo Epico E poi facciamo me lo sposto Ci sta, ci sta Dai, non mettiamo cose brutte Non mettiamo cose brutte Perché alla fine Che poi tra l'altro Per me risulta veramente difficile Riuscire a scindere La persona Bravo, ma non si applica Ragazzi, tra l'altro Per me è molto difficile Riuscire a scindere L'artista Dal content che fa Cioè C'è chi ci riesce C'è chi riesce A scindere L'artista Dalla persona Io faccio molta fatica Faccio molta fatica A farlo Cioè Per dire Se un comico Se un comico Senza far nomi Si scopre che in realtà È indagato Per qualche cosa di losco Senza far nomi Io faccio fatica Dopo a rivedere Quel comico Nello stesso modo Faccio molta fatica Cioè io faccio molta fatica A scindere L'artista Da com'è Quindi Questo sarà anche Una mia valutazione È una mia valutazione privata Tra l'altro È una mia valutazione privata Ovviamente Allora Zeb Partiamo da Zeb Allora Zeb Ha un problema Cioè Zeb è sempre Zeb è stato uno Dei capisaldi Di Youtube Italia È stato Un content creator Da panico Specialmente Quando Anni fa Su Twitch I contenuti Che faceva Erano Erano belli Il problema È che dopo un po' Diciamo È partito a fare Dead by Daylight E basta Cioè praticamente È quello il problema Ha dei meme Incredibili È bravo No è bravo È bravo Bravo è bravo Però ha dei meme Incredibili E io ho il problema Che come ho detto Faccio fatica A scindere L'artista Dalla persona E quindi No cioè Li faccio in ordine Gabri Quindi sarò sincero Cioè È che Non mi trovo bene Con il modo Con il modo Che tratta la chat Non mi piace il fatto Che abbia deciso Di trattare Cioè Anche il modo In cui ha risposto Le persone Secondo me Non è il massimo Diciamo che Diciamo che Guarda Lo mettiamo su carino Lo salviamo Ma perché è Zeb Lo salviamo Ma perché è Zeb Perché Zeb Comunque Non ha Non ha Cioè Spesso Non ha dato Delle risposte Molto belle Alla sua utenza Non ha dato Delle risposte Molto belle Alla chat E tutt'al più Le decisioni Che ha preso per ultimo Non è che abbiano Giovato in fatto Di content Quindi Però dai È Zeb È Zeb Insomma Zeb è Zeb Mettiamolo su carino Dai Mettiamolo su carino Canelupo Che Quello che fa LOL Lui Fa League of Legends Lui giusto Perché io Non l'ho praticamente Mai visto Zeb un grande No no Ma non stai capendo Sto parlando Della mia valutazione Personale Questa non è la valutazione Degli utenti Questa è la valutazione Questa è la valutazione Mia personale Cioè quindi È quello che fa LOL Sì ragazzi Lui metto Non lo conosco Perché io L'ho visto L'ho visto un attimo Al volo Che faceva LOL Però non lo conosco Effettivamente Che non posso valutare Quindi Armate patino Allora No perché me lo sposo È proprio amore Cioè Me lo sposo È amore folle Capito È diverso Perché tipo Loro sono stati I primi da cui sono andato E loro Cioè loro Io li trovo Molto simpatici Flame Poi l'ho visto dal vivo È un patatone Anche lui Marra è simpatico Con Marra ci berrei Volentieri una birra Fuori Per dire Perché è molto simpatico Simone Me lo abbraccerei tutto Perché Simone Simone È il classico Diciamo No In maniera buona È il classico Stronzettino Che però mi vorrei Abbracciare tutto Perché alla fine È una persona Molto dolce Simone comunque Pantofola Grazie per i due mesi Di risalbo Intrano per armate patina È molto dolce Simone come persona Quando Scavi un attimo Un po' più a fondo E io Mi piacciono tantissimo Tutti e tre Quindi io li metto in epico Perché per me Loro sono epici Comunque Cioè alla fine ragazzi La scala è fatta al contrario Vabbè sti cazzi Andre grazie per aver chiestato una sub Perché alla fine ragazzi Comunque il celebro fa una cosa Che non fa praticamente Fa praticamente nessuno Cioè fanno giornalismo Giornalismo digitale Che è una roba Comunque è pesante raga Cioè Quello che fanno loro È molto pesante Perché comunque Tu come fai a scindere L'amicizia Con uno streamer Se poi quello streamer Lo devi accusare di qualcosa Non è facile Six Damone Grazie per i cinque vestiti Sub Oswald Grazie per la sub Minuto di mettonati Le va per armate patini No non finisco domani I tre quarti Non li conosco zio Quindi Il problema è che Cioè loro fanno una roba Molto difficile Perché mettica anche tu Sei amico con uno streamer Questo streamer Ha fatto una cazzata E loro lo devono dire live Se lo streamer S'offendi Si rischia di minare Anche L'amicizia Che si ha con lo streamer E quindi Loro fanno una roba Molto difficile Comunque Quindi li apprezzo Tanto anche per questo Chris Laway Non so chi sia Che cosa fa? Chi è? Io non so chi è Chi è Chris Laway Scusatemi Cosa fa? Boh Come si fa ad avere un tassi? Tassi? Boh Vabbè ok Nel dubbio Boh Vabbè andiamo avanti Boh ok L'amico di Omi Omi lo conosco Ovviamente non conosco lui Quindi vabbè Nel dubbio Irla Vabbè ragazzi Non lo conosco Quindi Ciccio Allora Ciccio e Marco Io li amo alla follia Tutte e due Ciccio e Marco Li amo alla follia Tutte e due Ciccio è un personaggio È un personaggio Secondo me È simpaticissimo L'ho beccato anche Calvolo al Games Week È molto molto simpatico Anche lui È come suo fratello È completamente matto Cioè Marco Merino e Ciccio Sono pazzi Sono pazzi Ma fanno ridere Quindi per me Siccome comunque Io ho anche Dell'affettività Nei confronti di Ciccio Lo metto in bello Deluxe Io non so chi cazzo è Chi è Deluxe? Vedi già tipo qua Io già un po' Non li conosco Antra Grazie mille per aver Gli fatto un'altra Sampatino Deluxe Io non so chi sia Sarò sincerissimo Fieric Lo conosco Ma lo seguo poco Lo conosco Ma lo seguo poco Anche Fieric Quindi come faccio A fare una valutazione Su Fieric Ho visto qualche live Ma lo conosco poco Lo conosco poco Cioè Sicuramente sarà bravo Però Come faccio a fare una valutazione Oggettiva No ma fantastico Ma non lo metti in dubbio È solo che Non lo conosco abbastanza bene Non lo conosco abbastanza bene Quindi io Io metto Metto che non lo conosco Raga perché Non posso dare una valutazione Oggettiva Non posso dare una valutazione Oggettiva Raga Sarà bravo Ma lo conosco poco Ma metti in epico Ma devo mettere Chi conosco io Scusami Fragola Cuti Non so chi cazzo è Non so Allora Non so chi è questo Non so chi è questo Jumpy Tech Jumpy Tech è simpat Jumpy Tech è carino Peraltro Jumpy Tech Scusami Non è più su YouTube Non è più su YouTube Jumpy Tech Scusami Cioè Io l'ho sempre visto Molto più su YouTube Jumpy Tech Più che su Twitch Cioè Anche su Twitch Ragazzi Il Gabbone Che non è il Gabrone Non lo so chi è ragazzi Gabbone Non sarà il Gabrone Un'altra persona Non so chi è Prima era anche su Twitch Allora Jumpy Tech Io sinceramente È abbastanza simpatico Quindi io lo metto In bello Anche Jumpy Tech Perché è abbastanza simpatico Faceva abbastanza ridere IBob Io Non so Non conosci Gabbo Chiedo Scusa Non conosco IBob Non so chi sia Dico la verità Il Gattone Allora Il Gattone Il Gattone Sarò sincero Lo conosco Molto per Per Yotobi Perché comunque Hanno fatto un sacco di Chi sei Ai Bob Identificati Il Gattone Lo conosco molto Perché Faceva L'ho conosciuto Grazie a Yotobi Sarò sincero Quindi Lui Cioè Lui fa delle belle live Mi piace Cioè Comunque lui è molto simpatico Anche come persona Sembra molto simpatico Però io lo metto in bello Lo metto in bello Forse epico Forse epico È qualcosa di più Però comunque Gli alert sono coperti Scusami Hai ragione L'abbasso raga Gli alert sono coperti Faccio così E via Così gli alert ci sono Se volete fare La sub o i cheer Si vede Lo metto in bello Perché comunque Il Gattone È molto simpatico Sì sì Ma ero nella live Prima sono andato a fare un saluto Ai termosifoni Sono andato a fare un saluto Prima sono andato a fare un saluto Ai termosifoni Qualcuno mi ha anche giftato una sub al loro canale Sono molto Loro sono molto simpatici Ho salutato anche Moro Gli ho detto Moro mi hanno detto che La nostra voce è simile E Moro mi ha detto che mi segui su TikTok Ho detto che carino Grazie Allora Gischianto Lui è particolare Perché Per quello che riguarda La stream Cioè io lui l'ho visto dal vivo È un ragazzo tranquillissimo È un ragazzo tranquillo Simpatico Cioè Fa delle live Particolari Comunque lui ragazzi Cioè Su Gischianto Si può dire tutto Tranne Che non faccia Delle live Assurde Cioè Gischianto fa delle live assurde Ragazzi Fa delle maratone Da un mese Va a dormire Si fa rompere i coglioni Per fare content Quindi In merito alla qualità Delle live che fa Io lo metto in epico Perché Lui fa delle live Da paura Ragazzi Lui fa delle live Da paura Cioè lui si dedica L'anime corpo Alla streaming Non è roba da poco Non è roba da poco Allora Il Maseo Non c'è neanche bisogno Di specificare Il Maseo È il mio amore Su Twitch Quindi non c'è neanche bisogno Di specificare Per quello che mi riguarda Il Maseo È assolutamente Uno dei content creator Migliori Che ci sono È capace Di intrattenere È capace Di Di dire cose divertenti Al momento giusto È capace Di avere Delle reazioni Molto belle In certi In certi Nei momenti giusti Porta dei giochi Che riesce comunque A rendere interessanti Anche Nella maniera giusta Quindi E poi vabbè Io ragazzi Con il Maseo È stata la prima persona Che ho contattato La prima persona Che ho sentito Era il Maseo Nella mia vita Di quelli Un po' Conosciuti Quelli famosi Conosciuti Perché lui Mi seguiva Su TikTok Io scoperto Che mi seguiva Avevo bisogno Di chiedergli Dei consigli Ci siamo scritti Cioè il primo Che portano Del content creator Che portano Dei content Davvero Davvero belli Che mi fanno Che mi piacciono Poi tra l'altro Loro li seguiva Anche da prima Quindi io direi Oggi si fa Prigionieri Di viaggio Eh patato Mi sa che siamo Alla fine delle puntate Questo è un grosso problema Grazie per il Ciro Loro li metto inepici Non me li sposerei Però li metto inepici Perché ne vale assolutamente Comunque è epico Ragazzi Epico È il secondo livello Più alto Non è che Non è una merda Voglio dire Il livello Il livello più basso È non mi piace Dopo c'è già carino E quindi Gli eye pants Li conosco davvero poco Li conosco davvero poco Sarò sincero Solo li conosco Veramente Veramente poco Quindi non mi sento Di dare un giudizio E li metto in Non conosco Li conosco poco Non posso Anche quelli che ho visto Qualche live Devo conoscerli Un minimo bene Per giudicarli Se li conosco poco Come faccio a fare un giudizio Eh ma li conosco poco Raga Come faccio a giudicarli Samuele grazie per il Sebes di risappo Intrame per armate Fatino Ivan Ivan Sono stato Anche in una sua live Devo dire la verità È un ragazzo Comunque Di tutto rispetto Porta dei contenuti Un po' più seri Rispetto se vogliamo Alla media di Twitch Sono contenuti Un po' più seri Però portati molto bene Lui è molto molto simpatico Sa fare le battute Sa Ha un carattere bello Picantino anche lui E Lui direi che Lo mettiamo In bello Non metto epico Però per me è bello Allora qui già C'è una fila di gente Che non so Chi cazzo è Allora Lui non so chi è Chi è Giustiz Datemi degli incipiti In chat Chi è Giustiz O Giustiz Per essere Rovazzi fa le live Rovazzi Ah dopo vediamo Boh Fa FIFA Ah ok Fa FIFA Allora vedi Non lo conosco per quello Checco L'ho visto qualche volta Ma sinceramente Non mi ricordo un cazzo Non ricordo bene O almeno Non ho delle valutazioni Adeguate Per riuscire a fare Una Checco chi è Scusate Non mi ricordo L'ho visto qualche volta Ma non mi ricordo più Chi è pure Anche lui Fa Fortnite GTA Ah ok L'amico di Non lo conosco abbastanza bene Fa Fortnite Ok Non lo conosco abbastanza bene Perché Ragazzi Fortnite lo seguo veramente poco Queste due Io non so Ah no Aspetta Lei non so chi è Croatomist La conosco Perché io Seguo Tra l'altro Non c'è vero quella No Non so Queen Georgia Io seguo sia lei Che Queen Georgia Le seguo tutte e due Cioè le seguo Insomma ogni tanto Vado a vedere le loro live Secondo me sono molto Molto simpatiche Tutte e due E Però Le seguo Cioè le seguite poco Quindi Come faccio a fare Una valutazione qua Cioè no Ma che capito Cosa ho detto Ho detto solo Che loro sono Comunque simpatiche Fanno anche dei TikTok insieme Sono buffe Ci sono anche io Beh ovvio Scusami Dove sono Scusami Che cazzo Scusami Che cazzo Che cazzo stiamo a parlare Scusate Allora Lei lo seguo Lei No come streamer Mi piace La metterei Tra Ragazzi Che cazzo stiamo parlando Scusate La metterei Tra Ti autosposi Eh vabbè Lascia stare Narcisismo Is the way La metterei Tra carino e bello Però dai Siccome comunque Voglio includere anche Queen Georgia Con cui fa le streaming Io la metto in bello Lei Kirenis Non so chi cazzo è ragazzi Chi è Kirenis Mi sono messo a fianco Al Masseau Che volete Chi è Kirenis Scusate Per se sapere Perché voglio Sono curioso anch'io LOL Ah gioca a LOL Ok allora non so chi è Espespion Grazie per il cirpatino Ok LOL Non lo seguo quindi Lazzarine Lazzarine è un elemento Molto particolare Fa dei video Veramente carini Insieme tra l'altro Anche a Cosa Merluzzo A Barry Fa Fa dei video Veramente carini Molto sicuro Marbeia Se Albino Fanno Twitch Se no Dovremmo fare la categoria Complottisti Per loro Lacrime di gioia La categoria per loro C'è Cagare Fai la live insieme Sì esatto A Murray A Merluzzo Lui è una persona Molto molto simpatica Anche tra l'altro Intelligente Sono una lei Chiedo scusa Patatina Grazie Brissier Perdono È una persona Molto molto simpatica Fa cose molto molto simpatiche E per quello che lo conosco io Io lui lo metto in epico Perché per me Lui è fantastico Lucy Lane Non so chi cazzo è Non so chi cazzo è Lucy Lane Non ho idea di cosa faccia Luke Non ho idea di cosa faccia Fa smr Quindi ecco perché Non so chi cazzo è Luke Non so chi è Vi chiedo scusa Non so chi è La ragazza di Stepney Ah vabbè Oh ragazzi Io non so chi cazzo è Quindi voglio dire Allora Marco Merrino Marco Merrino È Senza ombra di dubbio Uno dei personaggi Più Strani Se vogliamo dire Del web È un personaggio Tra i più strani Che ci sia nel web Ma in senso buono Ma non in senso cattivo In senso buono Cioè Marco Merrino Fa dei video assurdi Di una qualità assurda Con un impegno assurdo Cioè Io i suoi video che vedo Ogni tanto tira fuori Delle robe incredibili Cioè lui Lui tira fuori un video Compaiono Cardi armati Bombardieri Cioè Arrivano dei camion Dei mostri Spara al pa Cioè una roba Fa delle robe incredibili Che non c'è Non ti aspetteresti mai Di trovare in giro Poi ha un senso Dell'umorismo Molto molto sottile Cioè molto molto Piccante Però è Indiscutibilmente Uno dei personaggi Diciamo Forse Che più gradisco Quindi Io lo metto in Marco Merrino Me lo sposerei Marco Merrino Il Marzone Allora Il Marzone Io ci ho parlato Anche ogni tanto Anche il Marzone È veramente simpatico Il Marzone È una sagoma Cioè il Marzone È una sagoma Perché Fa ridere È forte Andre è strano Che non conosci Luke Non ora ma fino a 5 anni fa Lo conoscevano tutti quanti Ma forse non lo conoscevi K Faceva Minecraft Ah il motivo Non si spiega Io non seguo Minecraft Quindi Ti dico la verità Grazie perci il patino Cioè Il Marzone È un soggetto incredibile E io lui Lui Lo conoscevo Già da molto prima Che lui faceva un sacco Faceva le live Insieme a Power Ma poi faceva anche Altra roba prima E lui è un personaggio Cioè Tu vedi una live Del Marzone E tu sai già Che comunque O Tirrà fuori delle perle Delle chicche fantastiche O comunque Ti divertirai un sacco E Secondo me Anche considerando Che è molto simpatico Lui Lo mettiamo in epico Non me lo sposerei Però lo mettiamo in epico Perché direi che ci sta Mollu Mollu Non so chi cazzo è Sarò sincero Chi è Mollu Lui chi è Non so chi è Mollu Ciao Andrea Spero che sia giusto Il modo X essere Visibile Ti seguo da poco E ti sto facendo Conoscere anche A mia sorella Che carina Grazie mille Un super saluto Cuore rosso Grazie mille Grazie entrambe Grazie per i cheer Ragazzi Non so chi sia Amico di Zan Non lo conosco ragazzi Non conosco neanche Nezak Non so chi sia Nezak Sarò sincerissimo Sarò sincerissimo No Fieric so chi è Ma non lo conosco Abbastanza bene Da fare una valutazione Personale E questa è la differenza Non lo conosco Abbastanza bene Panetti Panetti anche lui È un soggetto È un elemento Cioè È un elemento particolare Sicuramente Ha un senso Dell'umorismo Molto spiccato Cioè Riesce a fare Le battute giuste Al momento giusto Quando vuole Ha un senso Dell'umorismo Particolare E comunque È divertente È divertente Quindi Secondo me Allora Io sono deciso Tra epico O bello Panetti Però Io nel dubbio Lo metterei Vediamo un po' Perché ci vorrebbe Una categoria A metà Panetti È un soggetto Che fa morire Da ridere Però Sono indeciso Vediamo un po' Vabbè Panetti lo mettiamo In epico Perché comunque Quando guardo le selai Mi fa sempre ridere 22 Non so chi cazzo è Non so chi è 22 Ragazzi Non so chi è 22 Non ho idea Chiedo scusa Non so chi è Nezac è un pro di Fortnite Non seguo Fortnite Quindi Paolo Cannone Raga Non mi ricordo più Chi cazzo è Vi giuro che c'è un vuoto Non mi ricordo più Chi cazzo è Raga Non mi ricordo più Raga Non mi ricordo più Che cazzo è Paolo Non mi ricordo più Fa LOL Eh ma non gioco a LOL Eh ma ragazzi Non gioco a LOL Raga Io gioco a Dota Eh ma io non gioco Io gioco a Dota Raga Eh ma sarà Sì Paolo Cannone Il nome mi suona Eh raga È un pro di LOL Ma io gioco a Dota Non gioco Non seguo LOL Quindi non seguendo LOL Io come faccio a valutarlo Ma sicuramente sarà un must Ma io non gioco a LOL Ragazzi Peppo Non so chi cazzo è Peppo non so chi cazzo è Vi dico la verità Sarò sincerissimo Non ho idea di che cazzo sia Peppo Allora Power Power Io Ho un po' Un rapporto Di affetto Con Power Perché lo seguo Da una vita e mezzo Anche lui Lo seguo da una vita e mezzo Era forse uno dei pochi Che guardavo Anche quando giocavo A Fortnite E io Power Normalmente L'avrei messo In epico Però c'è da dire Che la mia valutazione Personale di Power È che È un ragazzo Veramente dal cuore d'oro Sembra una persona Veramente bravissima Sembra veramente Un bravo ragazzo Una persona Gentile Cortese Una persona Comunque Molto disposta Ad avere Delle buone maniere Sempre se non lo fate Incazzare Ma questo è Ovvio Perché chiunque Quando si incazza Si incazza E io Sinceramente Power Con questo Tocchi in più Me lo sposerei Anche lui Wreckings Oddio Wreckings Come faccio a valutarlo Non ho visto tantissime live Di Wreckings Però adesso Lasciamoli indietro Rovazzi Ma io ragazzi Come faccio Io Rovazzi Fa Twitch Rovazzi Fa Twitch Cioè Rovazzi So chi è Ovviamente Ma fa Twitch Ragazzi Rovazzi Scusatemi Come faccio a valutarlo Che cosa fa Rovazzi Scusatemi Power Mi Orenne Però raga Io non l'ho mai vista Una live E quindi dove lo metto Lo metti Non conosco Perché Non l'ho mai visto Una live Lo conosco Ma non lo conosco Come streamer Come streamer Non lo conosco Quindi raga Cazzo vi devo dire Allora Andiamo un attimo Con quelli più Andiamo un secondo Con quelli più Adesso smettiamo Di andare in ordine Perché allora Vediamo un po' Blur Blur E anche lui È un elemento Molto particolare È un soggetto Molto particolare Che è capace Comunque Di essere simpatico Durante le live Il problema Di Blur È che più di una volta Ha avuto Dei problemi Molesti Anche con la chat Facendo dichiarazioni Anche poco carine Però Io Blur Cioè Sinceramente Per quello Per quello Che posso dire Guarda È comunque Un soggetto È comunque Un elemento Particolare Però Non mi fa impazzire Blur Cioè Sì no Blur è bravo Come streamer È bravo Come streamer Però Ha un carattere Molto particolare Che secondo me È difficile Anche da Cioè Spesso ha avuto Dei momenti Con la chat Non proprio Bellissimi Quindi Ma sì Dai Siccome comunque Dai Comunque lo mettiamo In bello Perché comunque Come content creator Nessuno si può lamentare Voglio dire Xyuder Allora Xyuder 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 È anche lui È molto particolare Cioè Xyuder Sicuramente Content creator È sicuramente Tutto d'un pezzo Cioè Come content creator C'è Quindi Non possiamo dire Un cazzo Per cui Guarda Lo metto in epico Perché comunque Xyuder 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 Non c'è neanche bisogno Di specificarlo Cioè Io amo La follia Yotobi Lo seguo Yotobi Penso sia la persona Che seguo Da più tempo In assoluto Cioè Yotobi Lo seguivo Da quando aveva Migliaia di Follow Migliaia di Iscritti Su Youtube Lo seguivo Da quando C'erano Youtube Con le stelline E Yotobi Era ancora Un posto Infestato Da gatti Quindi Quindi Voglio dire Lo seguo Da tantissimo Ho visto tutte Le recensioni Tutte la Cioè Con Yotobi C'è un rapporto Che è quasi Quasi un rapporto Affettivo Perché comunque Quando vedi tanto tempo Un content creator Ti ci affezioni Indirettamente Quindi Per quello che mi riguarda Non so come sia lui Da amico Non so come sia lui Da conoscente Perché non si può sapere Cioè Tu non puoi sapere Come una persona Se fosse tuo amico L'hai mai incontrato Purtroppo no Se no Ci avrei fatto Due chiacchiere volentieri Non sai mai come Non puoi saper lui Come hai da amico Però Solo vedendolo Per me E io me lo sposerei Io Tobi Allora Andiamo un attimo Babà Sto andando in ordine sparse Atrix Atrix Metto carino Non perché ho qualcosa Contro Atrix Mi fa ridere Solo che Secondo me Secondo me E questa è la mia Opinione personale Atrix Non ti offendere Mi fai molto ridere Però Secondo me Ti manca una cosina Per arrivare oltre Ma è la mia Umilissima Umilissima Valutazione Atrix Per l'amor di Dio Non ti offendere Chi abbiamo qua Dov'è No adesso aspetta Partiamo da quelli Più sostanziali Dove siete Allora Allora Beh Moccia Moccia Lo mettiamo In epico Neanche da dire Moccia Ha una carriera Quinquennale Moccia Fa Fa Cioè È su internet Da 16.000 anni 16.000 anni E mezzo È un personaggio Fa ridere È forte Porta del content Quindi Anche Moccia Lo seguo da parecchio E secondo me È validissimo Come content Quindi No Dov'è lui Aspetta Dov'è Dov'è Cazzo sei Dov'è Rubino Eccolo qua Rubino 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 Devo dire la verità Con Rubino Ho un legave Molto profondo Dovevamo andare A Pescare tonni Insieme A Marbellas Per dimostrargli Che la terra Era tonda E quindi Per una questione Affettiva Io Rubino Metto me lo sposo Ma per una questione Affettiva Molto mia Dunque Saidonia Ecco Saidonia Allora Per Saidonia Sono indeciso Perché Io per Saidonia Ho quasi un amore Omosessuale Non come quello Del Maseo Quello del Maseo È un amore folle Omosessuale Ma anche per Saidonia Ho un po' di amore Omosessuale Perché Anche lui Comunque Lo seguo Da una vita Secondo me Lui è bravissimo A spiegare Le cose Cioè Me lo seguo spesso Anche nel mondo Dei Pokémon Perché anche a me Piace un botto Il mondo Pokémon Secondo me È bravo A spiegare È bravo A fare le cose Non solo Come content creator Ma anche Le cose Che fa Che porta Quindi Io Lo metto In epico Non lo metto In melosposo Perché è un amore Un po' Omosessuale Per andare in melosposo Bisogna Nello Dov'è 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 quel Dov'è quel ribabbito Aspetta Allora Nello Nello lo mettiamo In bello Dai In bello No lo mettiamo Oddio Nello lo mettiamo Oddio Nello sta simpatico Però dove cazzo Lo metto Nello Lo metto In bello Dai Nello lo metto In bello Perché comunque È fuori Come un copertone È fuori Come un copertone Nello è matto Come un cavallo Nello è matto Come un cavallo Ma alla fine I content Che porta Sono comunque Giusti Perché comunque Cioè Sono belli Perché lui è pazzo Quindi vabbè Poi l'ho conosciuto Abbastanza in fretta Tra l'altro Vediamo un po' Chi abbiamo qui Dov'è Dove sei finito Maledetto bastardo Dove cazzo Si è andato Perché non ti Eccolo qua Greenbound Ragazzi Greenbound Non possiamo nemmeno stare A fare troppe considerazioni Greenbound Oramai Tra tutte le live Che abbiamo fatto insieme Tutte le cagate Che ci si andette Tutte le stronzate Di cui abbiamo parlato È il mio patatino Greenbound Comunque va In me lo sposo Per forza di cose Anche perché Non c'è me lo scopo Anche perché Comunque ragazzi Su Greenbound Si può dire Quello che si vuole Andrea ti prego Fai una live Con Adrian Farteida Sarebbe bellissimo E anche nella tier list Grazie per dire Paratino Grazie per i tre mesi Ragione Che le cose Che porta Greenbound Sono un po' Trash Ma sono Di intrattenimento Sono divertenti Le cose che porta Greenbound Sono divertenti Greenbound Ha creato letteralmente Un E poi c'è Cattelan Su Twitch Ha creato Un show Uno show Su Twitch E quindi di conseguenza Secondo me Lui In quanto a intrattenimento È uno dei migliori È uno dei migliori Perché le cose Che fa lui Non le fa nessun altro E non so se C'è neanche nessun altro Sarebbe in grado Di farle Quindi per me In quanto a content creator È uno dei migliori Greenbound Poi Allora La Gaia Allora La Gaia La mettiamo In Bello Allora Gaia Grazie per i stasambi Un troppo armato Paratino Allora Devo dire la verità Quando Gaia È arrivata su Twitch Non ero sicuro Di come sarebbe andata Però Sta andando Molto bene Perché alla fine Ha dei content Anche lei Ha dei content Grazie Che gentile Ha dei content Riesce comunque A portare Dei content Che intrattengono Bene o male E quindi Secondo me Gaia Senza un breve dubbio La mettiamo Su bello Matteo HS Raga Non c'è Se ci fosse Matteo HS Ragazzi Io lo metterei In me lo sposo Però non c'è Matteo HS Non ci sei Ti metto Ti metto Guarda Ti metto virtualmente Qua Matteo HS Va per forza Giuseppe Grazie per i quattro mesi Di risambio Bentornale per armate Matino Matteo HS ragazzi Va per forza Vento grazie per i due mesi Bentornale per armate Matteo HS va per forza Per forza In me lo sposo Primo perché è simpaticissimo Ci ho parlato al Milano Games Week È fortissimo come persona È veramente simpatico Poi ha un ragazzo di gran cuore Lui Un ragazzo di gran cuore E ragazzi Matteo HS Di che cazzo stiamo parlando È la storia di Twitch Matteo HS È la storia di Twitch Ragazzi Cioè Fa parte della storia Ha creato dei meme Ha creato Dei meme Delle frasi Che rimarranno Per sempre Nella storia di Twitch Matteo Questo per te La vicina A pecorina Questo è per te Matteo Come tributo Perché ragazzi Di che cazzo stiamo parlando Però non c'è Quindi ragazzi Lo mettiamo in Me lo sposo Virtualmente Virtualmente Matteo HS Non poteva che essere In me lo sposo Allora Poi vediamo un po' Il gabrone Il gabrone È Lo mettiamo in Guarda Io lo metterei Io lo metto In epico Il gabrone Perché io L'ho conosciuto Anche lui Anche lui L'ho conosciuto Lui È matto Cioè Il gabrone È matto Come un cavallo Cioè Quando è arrivato Al Milano Games Week Ragazzi Non avete idea Del casino Che ha fatto Cinque minuti Che era lì E tutti gli stand Di tutti Il Milano Games Week Sapevano Che il gabrone Era arrivato Tutti lo sapevano Ragazzi Un bordello Della madonna Ed è comunque Anche se è fuori È una persona Molto simpatica È un patatino Chiedo scusa X l'interruzione Vorrei sapere Il programma Di questa serata Paperosa Adesso vediamo Patato Adesso vediamo Non c'è esattamente Un programma preciso Grazie mille per C'è patatina Adesso vediamo Comunque abbiamo Della roba da vedere dopo Tanto questa cosa qui Non andrà avanti Per molto Perché comunque Non è che Molti non li conosco Quindi Allora La Pami Perdona Mixiuder Scusami Andre domanda Ma quando sei in live Dopo le undici Vicini Non si lamentano Magari Quando ridi forte Urli per gli HR Error Tanto grazie Precire Sono fortunato Perché la mia camera Da letto È sopra e sotto A delle cucine Di conseguenza Nessuno mi sente Perché nessuno Ha il letto vicino a me Pami Chiedo scusa Perdona Mixiuder Ma non la conosco Quindi non posso valutarla So che è la tua ragazza O moglie Non sono neanche sicuro Perdonami Ma non posso valutarla Allora Vediamo un attimo Qui ci abbiamo Vabbè Zano Allora Zano Che cazzo devi dire Non me lo sposerei Perché non me lo sposerei Però Come minimo Zano va in epico Come minimo Anche perché Porta dei content Mostruosi Zano oramai È diventato un protagonista Di Twitch Come minimo Va in epico Non metto in me lo sposo Solo perché non me lo sposerei Quindi Però Ciao Zano E quello che fa È veramente forte È simpatico Anche lui sembra un patatone Con cui ci uscirei a bere insieme Allora Eh ragazzi Adesso li trovo Fatemi guardare un attimo Alla moglie Scusate Non ero sicuro Fossero sposati Vediamo un po' Allora Wreckings Non mi ricordo Che cazzo fa Scusami Wreckings Ti ho già visto sicuramente Ma non mi ricordo Che cazzo fai Allora Jody Dov'è Jody Qui Qui a posto Poi Dunque Allora Jody Ah Jody Jody È un altro Che ho un po' Se si fosse dedicato Full time Ma Twitch Sarebbe senza ombre Il dubbio Inepico Però comunque Jody Ha anche un altro lavoro Si occupa di tante cose E quindi è giusto Che anche su Twitch Non riesca a stare Ciao bellissimo patato Ti volevo chiedere Quando reagirai A Chef Ruffi Vorrei capire Così Da non perdermi La reaction Comunque Io ti sposo Che carino Eh Quando me la Quando lo farò Lo vedrai sicuro Perché in live Comunque si vede Allora Secondo me Jody Se si dedicasse Se si dedicasse Full time A Twitch Sarebbe facilissimo Inepico Sarebbe proprio Facilissimo Inepico Però ovviamente Jody C'ha anche i suoi cazzi Da fare nella vita Non è che vive di Twitch C'ha tanta altra roba Quindi bello Sicuramente bello Anche se Per me poteva stare Tranquillamente inepico Fedez Ma Fedez Scusami Fedez Non conosco Chi è Fedez? Fedez Su Twitch L'ho seguito Veramente poco Dove cazzo lo metto? Che cazzo lo metto? Che cazzo? Cioè Non lo seguo su Twitch Fedez Ma sì È un cantante No lo so chi è Fedez Ma non lo seguo Non lo seguo Non lo seguo molto So chi è Eccetera eccetera Ma però Metto non lo conosco Ma non perché non lo conosco Perché non so Che non l'ho mai seguito Quindi come cazzo faccio A valutare le sue live Poi dunque Vediamo un attimo Allora Qui che ci abbiamo Allora Questo Qua A posto Dunque Vediamo Lion Lion Sembra Sì Però Ho capito Però Dobbiamo valutare Anche le prestazioni Cioè Lion Comunque Fa del content Cioè Lion Fa del content Perché comunque Fa del content Raga Di conseguenza Per quanto sia Quello che In quello che fa È bravo In quello che fa È bravo Eh no Ragazzi Quello che fa È bravo Cioè Non c'è un cazzo Da dire Ragazzi Se no Non avrebbe 40.000 Spettatori Alive Quello che fa È bravo E basta Poi comunque Come persona Sembra anche Molto simpatico È Abbastanza Stronzetto Perché è stronzetto Che è Un complimento Per me è un complimento Essere stronzetti E Ha una simpatia Abbastanza naturale Vabbè Ragazzi Io valuto Quello che ho visto Se poi nella realtà Non è così Non ci posso fare niente Ragazzi Io valuto Per le live Che ho visto Quindi Secondo me Io lui Lo metterei In bello Perché Non lo conosco Abbastanza bene Però lo conosco Quel tanto che basta Per avere una piccola Valutazione Però È bravo Come content creator È bravo ragazzi Non c'è di dire un cazzo Cioè Non è utile far finta Che non sia un bravo Content creator Tu Vieni qua Ti mettiamo Qui Scusa Secondo me Raccomandazione Da colleghi Scusami Allora Allora Dunque 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 Vediamo un attimo Omiatol A me piace A me piace Cioè E non ha mai Non ha mai Non mi ha mai dato Nessun tipo di Di dimostrazione Che fosse Una cattiva persona A me Omiatol I content che fa Mi piacciono Cioè Per me È interessante Dopo due bottiglie di rosso Ce la fai a farti Gran Prima devo farmi il masseo Diamo priorità alle cose Per cortesia Grazie per vicino Omiatol mi piace Non ho seguito tantissime live Però mi piace Quello che fa Lo trovo comunque Molto carino Molto gradevole Sembra un bravo ragazzo Quindi Lo metto in bello Però Come content creator Mi piace Mi piace molto Omiatol Perché questa Poi ripeto È la mia valutazione personale Quindi è la mia valutazione personale Di epico Per i miei gusti Non epico in generale Sia chiaro Vediamo un po' Allora Chi ci abbiamo qua Molti di questi Io non so che cazzo I termosifoni I termosifoni Loro tre Sono fortissimi Li metto in bello Perché comunque Le live che fanno Mi fanno divertire Sono Sono il trio Medusa di Twitch I termosifoni Sono il trio Medusa di Twitch Alla fine Perché comunque Riescono ad essere coordinati Dicono Cagate insieme Fanno battute A me Non dispiacciono Per niente Io li seguo volentieri Mi stanno molto simpatici Moro Abbiamo la stessa voce Quindi voglio dire Per cui Li metto in belli Ma perché Non li ho seguiti Talmente tanto Da avere una valutazione completa Però Comunque mi piacciono molto Almeno su Twitch Non li ho seguito Tantissimo Luis Luis È un personaggio Luis è un personaggio Ed è inevitabile Che sia in alto Perché Cioè Voglio dire Luis è Luis Luis è un personaggio Anche lui secondo me È suonato come un copertone Secondo me È matto come un cavallo Anche Luis No Matteo Che se non c'è L'ho già messo in me lo sposo Virtualmente Luis è matto come un cavallo Secondo me È fuori come un copertone È abbastanza Voglio dire Scusa Ed è Molto intrattenente Per quello che mi riguarda In lui Io lo metterei In epico Per quello che mi riguarda Perché comunque Quello che fa È forte E quello che fa È forte E non ha mai dato segno Di essere un po' stronzo Quindi Anche per me Valuta anche Conta anche la simpatia In realtà Allora Vediamo un attimo Chi cazzo ci abbiamo qui Letteralmente Tutti questi Non so chi cazzo sono Non so chi cazzo sono Tutta la seconda fila Non so chi cazzo sono Ragazzi Sarò sincero Non ho idea Di chi cazzo siano Tutta Gli arcade boys Li ho sentiti Ma non ho una valutazione Sufficiente Lui non so chi è Lui non so chi è Lei non so chi è Questo non so chi è Lui non so chi è No Ho detto la seconda fila La seconda Non Stormi È un'altra roba La seconda fila Ho detto Lui giocherà a Arston E io non seguo Arston Al non so chi è Non so chi è Non so chi è Non so chi è Questi qui non li conosco Ragazzi Quindi mi chiedo scusa Il trono del muori Che cazzo volete che mi dica Ragazzi Con quello che abbiamo passato Con il trono del muori Io valuto anche YouTube Sto valutando anche YouTube Ve lo dico Il trono del muori Se non va in epico È un peccato Scusate Il trono del muori Va per forza di cosa in epico È inevitabile Non può essere altrimenti Poi vediamo un attimo Allora Vediamo vediamo Stormi Non l'ho seguito tantissimo Però in quello che fa Comunque è bravo Senza non bere il dubbio Stormi è bravo In quello che fa Non l'ho seguito talmente tanto Da avere una valutazione Sua personale Perché Non ho una valutazione Sua personale Precisa Perché non l'ho seguito tantissimo Però lo conosco E quello che fa Secondo me È molto bravo Io lo metto in bello Solo perché Non ho una valutazione Abbastanza elevata Per poter valutare Vabbè ma che c'entra Gli spectre Non è che fanno tutto Non è che tutto fa gli spectre Io vado a calare le palpebre Che domaniola sveglia Alle 5.30 del mattino Buonanotte Saluto tutte le papere Il nostro super comandante paperone Grazie mille Buona live a tutti PS Finirò di guardarti su YouTube Grazie per dire Buonanotte Allora Dove sono? Aspetta La coppia che scoppia O dov'è che sta? Dove sono? I giocatori dentro Dove sono? Eccoli qua Loro Loro due Mia valutazione personale Me li sposerei Mia valutazione personale Perché loro due Sono Per me sono fantastici Mi hanno sempre fatto morire Un sacco da ridere Tutti i format che portano Io li trovo interessanti Io Io li trovo interessanti Una cosa E per me Loro sono Veramente Sembrano essere Veramente simpatici Le cose che fanno Mi piacciono tantissimo Quindi io li metto In me li sposo Poi qua Allora Anche Kitano Kitano lo conosco Ma come faccio a fare una valutazione precisa? Perché Kitano fa le streaming Giusto? Kitano fa le streaming Cioè Però non l'ho mai seguito in streaming Quindi come faccio a fare una valutazione? Senza offesa Kitano Te voglio bene Come faccio a fare una valutazione? Sabaku Sabaku Non me lo sposerei Ma in epico ci va per forza Perché Sabaku Sabaku è storico Leggendario Ha sempre fatto del content Molto profondo Quando gioca ai videogiochi Sembra che ti stia narrando Il signore degli anelli Quindi Sabaku Senza ombre e dubbio Va in epico Perché comunque In quello che fa Ci mette una passione Molto particolare Esatto Cioè scava nella lore Quindi Sabaku va Senza ombre e dubbio In epico Perché Quello che fa È unico Nel suo genere Bravo e particolare Allora Non avanzano tanti Tra poco abbiamo finito Perché non è che non avanzano tantissime Lo dico Allora Vediamo un attimo Aiuto Dread Dread io lo metto in bello Perché mi piace il content che fa Mi piace il content che porta Sembra essere un bravo ragazzo Sembra fare delle cose buone Quindi Dread Mi piace Lo metto in bello Mi piace quello che fa Mi piace il content Secondo me È anche di intrattenimento Allora Joker Lo metto in carino Perché Secondo me Come content creator C'è Andre grazie mille Per i due mesi di sab Mi trovi per amare Teppatino Joker lo metto in carino Come content creator C'è Solo che secondo me È un po' sclerotico Secondo me Si arrabbia un po' troppo Quindi Quello che fa È bravo È bravo a fare quello che fa Però secondo me Si incazza un po' troppo I nochi Ma i nochi Il rapper Ma stiamo parlando Del rapper E quelli i nochi Ma scusa È su twitch Non spavano neanche Che fossero su twitch Non spavano neanche Che fossero su twitch I nochi io Non lo sapevo proprio Cristian Vieri Non lo conosco Allora Allora Vediamo un attimo Il resto ragazzi Comincia a essere Siamo un po' scarsi Perché il resto Ragazzi Li conosco Troppo poco Troppo poco Per farci Il pipega Lo conosco Lo conosco L'ho conosciuto dal vivo Lui l'ho conosciuto dal vivo Ma non ho mai visto una live Quindi Non so di che cazzo Non so come Dove metterlo Che lo stesso problema Con chitano Tale quale Qui ragazzi Ne avanzano praticamente Zero Perché fa vedere un attimo Allora Wolf Lui mi piace Lo metto in bello Lui mi piace È molto simpatico Nel come persona Fa dei content carini Mi piace Lo metto in bello Poldo Chi cazzo Raga Voi siete consapevoli Del fatto che io Non ho la minima idea Di chi cazzo sia Poldo Vero Vi dico la verità Non so chi cazzo sia Poldo Ragazzi Sarò sincerissimo Allora Eh ma Sì ma Quelli che mi dite Quelli che mi dite voi Li conosco Ma non Se non vedo Non ho visto Le loro live Ragazzi Come faccio Come faccio Se non ho mai visto Le loro live Eh ma Se non ho mai visto Un cazzo di live Fa youtube poop Eh ho capito Ma Se magari l'ho vista Ma non sapevo che era visto Di averla vista Che era sua Quindi come faccio A valutarlo Secondo me qua ragazzi Il resto Li conosco Li conosco parecchi Ma non so come valutarli Ragazzi Non so come valutarli Perché non ho visto Abbastanza live Per poter fare una valutazione Raga Quindi Sarò sincero Non so come cazzo Valutarli Sti qua Vabbè praticamente Abbiamo finito Perché Eh raga Il resto abbiamo finito Perché non so come cazzo Valutarli ragazzi Non so come valutarli Perché non ho mai visto Ho visto poco O troppo poco Delle loro live Quindi Non saprei come valutarli Quindi questi qua Rimangono punto interrogativo E la classifica finale È questa qua Eh raga Non li conosco No non è che lo scusate Non è che non li conosco Non ho visto abbastanza live Quindi La classifica è questa qua La teniamo così Direi che possiamo Anche Ritornare Alle reaction E questa qua È stata la classifica